Che cosa sono i fiori? Non senti in loro come una vittoria? La forza di chi torna da un altro mondo e canta la visione. L'aver visto qualcosa che trasforma per vicinanza, per adesione a una legge che si impara cantando, si impara profumando. Che cosa sono i fiori se non qualcosa d'amore che da sotto la terra viene fino alla mia mano a fare la festa generosa? Che cosa sono se non leggere ombre a dire che la bellezza non si incatena ma viene gratis e poi scema, sfuma e poi ritorna quando le pare? Chi le ha pensati i fiori prima, prima dei fiori? Poesia di Mariangela Gualtieri per augurarvi buona primavera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.